Ho pensieri che partono dal cuore. Ho sguardi che vedono dove gli altri non si soffermano. Ho progetti che guardano al futuro. Ho desideri semplici, ma anche sogni emozionanti. Ho sempre con me un principio che vorrei fosse evidente a tutti. Il lavoro è un diritto. Sui pregiudizi, che i diritti prevalgano. Grazie.